Ciao Alessandro, grazie per il tuo commento. Prendo spunto da quello che hai scritto per condividere il mio solito messaggio che riguarda l'indipendenza energetica. A mio modesto parere, tramite l'utilizzo del fotovoltaico, ogni azienda o famiglia dovrebbe diventare il più indipendente possibile dalle compagnie elettriche. Questa è l'unica vera soluzione, perché se io mi autoproduco l'energia necessaria per la mia abitazione, per il mio capanone industriale, a quel punto non sarò più schiavo dalla compagnia elettrica che sulla base delle proprie speculazioni aumenta i prezzi come vuole, anche perché a quanto pare le istituzioni governative non fanno nulla per fermare queste speculazioni. Quindi l'unica arma che abbiamo è il fotovoltaico, perché uno si prende il fotovoltaico e già lì con un minimo di attenzione, anche senza l'utilizzo di batterie, si può arrivare tranquillamente all'80% di autoconsumo. Se poi mi metto anche una pompa di calore, mi riscaldo la casa sempre con l'energia elettrica prodotta dal mio fotovoltaico. Questa, a mio modesto parere, è la madre delle soluzioni, perché le compagnie elettriche, come ho spesso detto, ovviamente ho detto una cosa che sanno tutti, fanno proprio interesse e quindi nessuno ci verrà mai a tutelare come privati o come aziende. Ti ringrazio per l'attenzione, una buona giornata, un saluto a tutti da Marco Fai, tu esperto il fotovoltaico, ciao!